Salve a tutti ragazzi, questa volta tocca il girone del Brasile ragazzi, il girone del Brasile, il girone è che ha visto appunto Brasile contro Costa Rica e Brasile prevalere per 2 a 0 E' un partita dominata assolutamente dal Brasile come possesso palla, anche come tiri, gioco, tutto dominata dal Brasile Però, però ragazzi, questo Brasile rischiava di portare a casa un punto Perché i gol sono arrivati al 91esimo con Coutinho e al 97esimo con Neymar E' una partita molto nervosa, soprattutto da parte dei brasiliani che sentivano molto la pressione Tant'è che Neymar a fine partita si è sfogato in un pianto E' veramente una pressione altissima, però ce l'hanno fatta e hanno vinto 2 a 0 E come sempre l'unica cosa che non mi piace del Brasile è che alcuni giocatori, perché non tutti, alcuni giocatori tipo Neymar Diciamo che si pavoneggiano un po' troppo invece di incidere Allora, non mi piacciono quelli che prendono in giro gli avversari Prendi, gioca, se vuoi fare a vedere chi sei, fai quel cazzo di gol Quindi questa è una piccola cosa, ma per il resto ragazzi, partita dominata alla grande L'altra partita di Gironè invece è Serbia-Svizzera ragazzi, con la Svizzera vincitrice Abbiamo al quinto, quindi inizio partita, Serbia in vantaggio con Mitrovic Al 52esimo con Shaka E al 90esimo riesce a segnare Shakiri con veramente un gran bel gol E quindi porta questi tre punti alla Svizzera, che sono molto importanti perché Così la Svizzera riesce a scavalcare la Serbia e va a 4, con il Brasile 4 punti Serbia 3, Costa Rica 0 E non è così scontato, perché Costa Rica è eliminato, non ci sono dubbi Però abbiamo una Svizzera-Costa Rica, che secondo me non credo che riesca a fare punti questa Svizzera E poi c'è un Brasile-Selbia ragazzi La Serbia non è poi così facile affrontarla Però credo che il Brasile alla fine la spunterà e passerà il turno Quindi sì, un bel girone, però credo che Brasile e Svizzera passeranno questo turno Speriamo poi che, cioè vorrei vedere le partite dopo i gironi Cioè, belle toste, perché fino adesso si è rivelato un mondiale Come prima giornata si è rivelato un mondiale aperto a tutti i risultati Però adesso già con la seconda giornata si stanno ristabilendo alcune gerarchie Diciamo, ecco, chi aveva perso, le grandi che hanno perso punti ne hanno riguadagnati Tranne l'Argentina Però per il resto siamo lì, ecco Su questo gruppo non c'è tanto da dire Per me il Brasile e la Svizzera credo passeranno Quindi vedremo cosa succederà Per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi